Sono Gastone Garziera, classe 1942, mi sono diplomato all'Istituto Alessandro Rossi di Vicenza nel 1961 e sono stato assunto dall'Olivetti, mi ha selezionato Mario Ciù e nell'ottobre del 1961 sono entrato al laboratorio ricerche elettroniche di Borgo Lombardo. Lì dopo il corso ho cominciato nel gruppo dell'ingegnere Perotto a dipendenze dell'ingegnere De Sandre a lavorare su quello studio che sarebbe diventato la programma 101, considerato, penso a ragione, il primo personal computer della storia. Ho continuato dopo il militare a lavorare alla ricerca e sviluppo finché c'è stato l'ingegnere Perotto e comunque ho continuato nell'ambiente di progetto anche dopo fino alla fine della mia esperienza lavorativa avvenuta il primo gennaio del 1996. I miei interessi sono sempre stati sul filone prima delle macchine di tipo scientifico fino ad arrivare poi alle macchine del retail e così variamente. Successivamente mi sono interessato per hobby a quello che era stata la mia, diciamo così, mio desiderio di interessarmi di scultura e pittura e poi alla fine con la nascita del museo tecnologicamente ho ripreso a lavorare intorno alla programma 101 e sono volontario quindi alla Fondazione Natale Capellaro ad Ivrea e in particolare nel laboratorio museo tecnologicamente. Noi recuperiamo macchine, soprattutto 101 perché sono le macchine a cui siamo più affezionati ed è più facile anche recuperarne. Ne abbiamo recuperate più di una trentina finora e ne abbiamo ancora in coda che aspettano. Quindi questo è il nostro hobby di questo periodo e poi molto volentieri mi capita di raccontare quello che è stata la nostra storia sempre a partire dal programma 101 perché è stata un'esperienza affascinante in un ambiente umanamente incredibile, tecnicamente secondo me al top di quel tempo e quindi ricordo sempre con piacere, spero che possa essere di esempio ai giovani di oggi ma non solo, anche a chi gestisce e è in grado di generare realtà come quelli che avevano Olivetti a quel tempo perché credo ce ne sarebbe molto bisogno. Io ho imparato nel tempo, non ho conosciuto Adriano Olivetti ma ho capito nel tempo il suo valore e sono convinto che in effetti non sia ancora completamente capito ma ci sarebbe un gran bisogno di persone come lui capaci di avere quegli ideali e quella capacità di fare così grande un'azienda ma non solo, di pensare a tutto quello che è la società intorno a quell'azienda. Sono qui perché anche qui l'organizzazione di Ebit of History del Mopin mi ha chiesto di venire a raccontare la nostra esperienza e quindi sono venuto molto volentieri perché credo che sia uno dei passi che, guarda caso, sono ancora utili in queste occasioni. Grazie a tutti.